Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di quest'anno scolastico e io come di consueto voglio fare intanto i saluti ai miei studenti, gli studenti di quest'anno delle quarte ginnasio, quarta E, quarta D e quarta MI e delle terze liceo invece, terza A e terza F, che tra l'altro si avvicinano alla maturità e per questo vi faccio anche gli auguri di fare una bella maturità, sperando poi magari di rincontrarli negli anni successivi. Faccio quindi un grosso in bocca al lupo a tutti i miei studenti di quest'anno del liceo Alfieri di Torino, faccio anche però un grande saluto, un grandissimo saluto ai miei ex studenti degli anni passati del liceo Regina Margherita di Torino, del liceo Chiuri Vittorini di Grugliasco, un paese sempre vicino a Torino, del liceo Flora e dell'istituto Raffaello e io li saluto tutti con affetto. Ogni tanto magari vedete anche qualche commento sotto i miei video da parte loro perché a me fa sempre molto piacere e gli rispondo anche con molto piacere. Detto questo però faccio gli auguri a tutti i miei studenti, anche online, anche voi che non mi conoscete di persona ma che mi seguite ormai da tanto tempo. Vi faccio gli auguri, faccio un grande in bocca al lupo a chi dovrà andare a partecipare ai talk, quindi ai test da missione all'università. Ci saranno tutti i talk già adesso a fine anno ma poi durante tutta l'estate, addirittura poi a settembre ci sarà diciamo l'ultima parte di test universitari che serviranno ad entrare nelle varie facoltà. Io ovviamente consiglio sempre di studiare, sì sui miei video sicuramente sono molto utili, danno un'infarinatura generale, possono permettere un buon ripasso, consiglio però sempre di andare ad approfondire con i libri. Questo soprattutto agli studenti che mi seguono che però frequentano l'università. Ovviamente come dico spesso non si può pensare di affrontare un esame universitario che comunque si compone di uno studio molto poderoso su libri anche molto grandi dove bisogna andare a richiamare parecchie conoscenze. Ecco lo studio universitario va fatto soprattutto sui libri, anche a lezioni in realtà. A lezioni serve se avete dei bravi professori, ecco io spero di sì, la lezione universitaria è molto importante. Ecco che con i miei video si può sicuramente dare un'introduzione e un ripasso, poi finale, prima di andare magari a dare un esame. Sicuramente tutta la parte di biologia cellulare l'ho trattata bene sul canale, la trovate nella playlist appunto di biologia. Tutto questo tra l'altro cerco sempre di condirlo anche con dei testi che vi lascio sempre in descrizione. Li trovate nella descrizione, trovate testi sia di livello di scuola superiore ma anche di livello universitario. Ogni tanto mi piace mettere qualche testo un po' più approfondito che ovviamente hanno un costo più elevato, però sono ovviamente testi molto più approfonditi e parecchio validi. Detto questo io voglio augurarvi una buona fine di anno scolastico e ovviamente auguro il meglio a tutti voi. Sono contentissimo che mi seguiate sempre su questo canale, sono contentissimo che molti di voi mi dicono che i miei video gli servono per passare verifiche, per passare esami e sono anche molto contento quando dei miei colleghi mi riferiscono di utilizzare i miei video e che con i miei video i ragazzi riescono a prendere in modo ottimale. Questo perché probabilmente hanno una buona sintesi i miei video, io di questo ne sono molto orgoglioso. Ecco per far sì che io possa continuare a fare questo lavoro ovviamente io lascio in descrizione sempre un link per una donazione che può essere anche piccola, che però in realtà mi permette di continuare questo lavoro ed è un piccolo supporto che io anticipatamente vi ringrazio sempre di dare, che però appunto mi può essere molto d'aiuto. Va bene detto questo, questo era solamente un video ringraziamento, non ho portato nessun contenuto particolare, però mi piace ogni tanto farli, tendenzialmente una volta all'anno cerco sempre di fare questi tipi di video in cui vado a salutare i miei studenti, sia i miei studenti che vedo in presenza in classe ma anche tutti voi online, per tutto il sostegno e per tutto il calore che comunque ricevo quando mi commentate, quando mi scrivete, questa cosa mi fa veramente tanto piacere. Vi ricordo come sempre che sul canale ci sono diverse playlist che trattano tutta la parte riguardante la biologia, inerente alla biologia, ma adesso sto portando piano piano avanti anche la playlist di chimica, ci sto mettendo un pochino perché ovviamente devo conciliare il lavoro da insegnante con quello da youtuber, diciamo così, anche se è un termine un po' strano da utilizzare, però appunto piano piano la sto portando avanti, quindi poco alla volta ci sarà anche la playlist di chimica. Detto questo, vi saluto tutti, utilizziamo la parte riguardante i commenti sempre per andare a correggere dei video, io poi se la correzione è un po' grossa sapete che non posso togliere i video e ricaricarli perché mi toglie tutta l'indicizzazione, cioè sostanzialmente non vi compaiono più in pratica, e quindi io cerco sempre di correggerli, visto che non si può fare tramite youtube in un modo più chiaro, devo per forza andarle a correggere poi in descrizione. Quindi quando notate qualcosa che non vi quadra o qualcosa di cui non siete sicuri, andate subito a vedere nella parte relativa alla descrizione e poi anche nella parte dei commenti perché probabilmente qualcuno l'ha già chiesto e probabilmente io potrei averlo già corretto. Va bene, io vi saluto e vi do, come dico sempre, appuntamento alla prossima lezione. Ciao!